E' lui! Ma lui, lui! Lui, lui! Ma le mani da re dovrebbe portare un anello. Mio figlio lo studierà libera scuola, incredibile. Quando è che lo posso incontrare? Nell'aldilà. Secondo te lui pianta? Ma non è così basso come dicono. Fresco pensiero, orientale generosità, suo adenche sorriso. Con questi occhi nuovi ha un fascino magico orientale. Io vorrei abitare nel suo cervello. Hai visto quanti libri si sono presi la briga di scrivere contro di me? La sinistra non riesce a mettermi a fuoco. Pensa che tutto sia sempre complesso. E invece è tutto così elementare. Medio seri subito. Grazie mille! E questo è il libro che ho detto respeito di guardare del pensiero. Ta di seguità inержita! Ta di seguità.